La salma di Lorenzo Orzetti avrebbe lasciato il Rojava alla Federazione Democratica della Siria del Nord salutata dalla folla e quanto mostra questo video pubblicato su Facebook dall'Internationalist Common of Rojava il raggruppamento dell'Alleanza Kurda che aveva preso in carico la salma di Tekosher. Il giovane fiorentino militava come volontario nelle milizie kurde ed è morto a 33 anni durante un combattimento contro l'ISIS in Siria. Nel video si vede una bara portata a spalla da alcuni soldati attraverso un picchetto di bandiere tra gli applausi della gente. La famiglia di Lorenzo Orzetti che avrebbe appreso la notizia del trasferimento dell'affereto proprio dalla video pubblicato sui social attende da settimane il rientro in Italia della salma ed auspica che le spoglie siano dirette verso un vicino consolato italiano. Il desiderio espresso più volte dai genitori è infatti quello di poter asseppellire il corpo di Lorenzo a Firenze per avere un luogo su cui piangerlo.